Aspetta, ora ne chi c'è? Nessuna. Ah, Marta non va a capire. Marta, è che lì si scaola. Marta non è stata la piazza. Ah, insomma, già c'è una piazza. Non è stata la piazza. Osta. Via! Vedi, quella di mezzo è bravina, come guarda. Però si mette bene. Voi c'è una piazza. Gaia Caria, per l'amato di muro, che ha vinto con 5.000.